Ciao, benvenuti in ogni momento. Io sono Veronica e oggi ti porto un video del professore Gabriele Laguzzi. Probabilmente sai già che Gabriele da 40 anni opera nel campo della pranopratica, della bioenergetica e delle discipline olistiche come operatore e come docente nel triennio di formazione all'Aro. Bene, lui è anche scrittore e oggi ci parlerà dei suoi libri. Come sempre avrete tutti i link di contatto nella descrizione di questo video podcast, quindi se volete sapere di più riguardo ai suoi libri o la sua formazione o ai suoi corsi, avrete tutto nella descrizione. Abbraccio e ci vediamo io e te martedì con un nuovo video. A presto! Cari amici, buonasera. Oggi vorrei parlare un momentino dei miei libri, cosa che non faccio sovente, ma che ritengo necessario presentare in un modo diciamo tecnico, in un modo funzionale all'apprendimento degli allievi. Il primo libro che ho scritto nel lontano 2004 ormai è un vero e proprio manuale di biopranoterapia, come si diceva allora, teoria pratica metodologia terapeutica. ovviamente in quei tempi, che poi non sono tanto lontani, si usavano ancora delle terminologie che poi pian piano sono state eliminate, data la loro rispondenza con il mondo della sanità. Noi siamo nel mondo del benessere, ma questo manuale si avvale ancora di determinate terminologie, ovviamente pur sempre essendo consapevoli che la pranoterapia, la pranopratica, la biopranoterapia si muove sempre e solamente nell'ambito del benessere e della salute, della salvaguardia della salute. Questo volume fu presentato nella sala del consiglio regionale nell'ottobre del 2005 e devo dire ha avuto un grande successo nel tempo perché è un vero e proprio manuale di apprendimento dal punto zero, dall'inizio, dall'ingresso dell'allievo fino al raggiungimento di un'operatività solida, eticamente a posto e salda nel suo essere tale. Questo volume tratta che cos'è il prana, le componenti del prana, come si inizia ad usare il prana a livello personale e non solo. Poi via via c'è la rappresentazione e descrizione di vari metodi di indagine sulle potenzialità praniche degli allievi, fra cui il nostro Kirtest. Poi ci sono le schede, le grandi schede, al termine del libro, le schede che presentano l'approccio giusto, dal mio punto di vista, per quello che riguarda le singole sofferenze che allora si chiamavano, e si chiamano di fatto ancora oggi in medicina, nelle variate patologie. Poi c'è l'approccio verso quello che consideriamo la nostra prassi olistica, dove si vede l'individuo nel suo essere unico, totalizzante, psiche, energia, corpo, psico, fisico, energetico, quindi una visione complessiva, e tutto quello che riguarda l'approccio della psicosomatica molto importante. Di fatto un manuale che è molto più di un manuale perché è molto vicino all'essere uomo del nostro agire pranico. Non per niente ho coniato in questo periodo dei termini come emancipazione della personalità pranica, come medicina vivente e intelligente per quello che riguarda l'operatore del prana, medicina tra virgolette che si riporta alle tradizioni antiche, tribali, addirittura se non sciamane, ma comunque medicina vivente e intelligente, e poi amor et salus, che corona ogni aspetto del nostro agire pranico che dovrebbe, ma soprattutto del mio. Poi alcune di queste espressioni sono state prese un po' qua e là anche da altre persone. Ricordo che il mio metodo amor et salus AES è registrato e quindi vorrei almeno che quando si fanno le citazioni anche delle parole, delle idee, delle situazioni che ho avuto in ispirazione dell'universo che ho donato volentieri al mondo, però almeno si faccia per rispetto, si faccia per rispetto la citazione dell'autore, della fonte e del libro da cui sono stati tratti, a volte dei pezzi interi, delle frasi intere, se non le terminologie amor et salus, medicina vivente e intelligente, emancipazione della personalità pranica e così via. Ricordo che questo libro, come l'altro, è stato edito dall'editrice mediterranea, che è una delle case più importanti, forse la più importante in Italia, per ciò che riguarda la divulgazione seria, con autori seri, anche nel campo dell'esoterismo e dello spiritualismo in genere. Quindi il primo libro, Biopranoterapia, teoria pratica e metodologia terapeutica, edizioni mediterranee 2004. Successivamente, nel 2011, è uscito sempre per le edizioni mediterranee il secondo volume, che è Pranoterapia, Pranopratica, tecniche avanzate. Mentre l'altro volume era, ed è un manuale progressivo, questo l'ho chiamato un libro rotondo, un libro tondo, l'ho paragonato a un arancio, a un qualcosa dove c'è un contenitore, con dentro vari elementi, che ho chiamato gli spicchi dell'arancio, che possono essere, come dire, degustati, non in ordine cronologico, ma secondo la necessità del momento. Allora, all'inizio sono molto importanti due capitoli, tempo e spazio e l'immaginazione creativa, che fanno da contenitore, da buccia, come ho detto, ai contenuti che verranno poi. Successivamente, gli spicchi si dividono in spicchi di conoscenza riguardanti i rilmi cosmici, i rilmi, ciò che è in alto e ciò che è in basso, quindi tutti sono i rilmi interni del nostro organismo, le risonanze interne e le risonanze cosmiche e viceversa. L'acqua, l'epigenetica, la progressione della consapevolezza dell'operatore attraverso esperienze nuove, diverse, che comunque ho avuto anch'io in ispirazione, come ispirazione dall'universo, che ogni tanto riversa in me alcune conoscenze, alcune ipotesi di lavoro e io le traduco nell'insegnamento che do ai miei allievi e non solo. Anche qui, alla fine, abbiamo un'ampia suite di schede che si aggiungono a quelle del primo volume, per cui l'ampliamento delle conoscenze, delle consapevolezze, che io ho chiamato avanzate, qui c'è scritto tecniche avanzate per una questione, diciamo, di carattere editoriale, ma più che tecniche sarebbe esatto dire consapevolezze avanzate. Man mano che le consapevolezze operative avanzano, si possono fare cose diverse, con strumenti diversi, con atteggiamenti diversi. Ecco che allora abbiamo realizzato la suite, il trattamento dei tre fornelli, della matrice energetica, del chakra della medulla e via via, che poi sono condensati questi trattamenti, trovano uno sbocco nelle schede dei vari trattamenti, delle varie sofferenze. Infine, alla fine, fine, fine del libro, quasi in un appendice, c'è il resoconto di anni di lavoro in regione e non solo, per l'emancipazione della nostra disciplina. E su questo vorrei dire una cosa importante. Io ho sempre lavorato, perché i tempi oggi sono cambiati, sono cambiati anche gli atteggiamenti di molte persone, io ho sempre lavorato per l'emancipazione della disciplina, anche quando lavoravo nel coordinamento delle altre forciazioni della Toscana e non solo, perché ho sempre ritenuto che emancipare la disciplina fosse importante molto di più che far valere o portare avanti un'associazione, magari la mia associazione o la mia persona. E quindi, questo lo posso dire, questo lo posso fotoscrivere una lamina di platino o di titanio dorato, il lavoro sulla disciplina, per emancipare la disciplina, va oltre il lavoro che si fa per far crescere la propria associazione, cosa che è molto importante, è anche la persona che agisce, le persone hanno il diritto e anche il dovere di crescere, ma se il contenitore che la disciplina cresce, automaticamente in forma piramidale cresciamo tutti, sia associazioni che persone. E questo lo dico con un vanto, con una punta di orgoglio, anche come vanto personale. Ho sempre messo avanti la disciplina rispetto a istanze di carattere associativo o di carattere personale. Questo lo voglio ottenere come un elemento di orgoglio e anche di soddisfazione. I risultati ci sono stati. Alla fine trovate poi anche di tutti questi libri, ma in particolare in questo secondo, un'amplia bibliografia di carattere generale, ma anche di carattere specifico per ciò che riguarda l'arte pranica. Assolutamente, sono alcune decine di indicazioni riguardanti libri attuali, ma anche libri scritti tanti tanti anni fa, di 50-60 anni fa da grandi operatori, che hanno lasciato le loro testimonianze. E questo è altresì una cosa molto importante. leggere e accrescere la propria consapevolezza con il fare, ma anche e soprattutto con il capire cosa hanno fatto gli altri per la gloria e la regalità della nostra arte. Quindi, riguardo al prana, per ora mi sono fermato a questi due volumi, ma sento che c'è già qualcos'altro che sta rimuginando nei cieli interni e in attesa di ulteriori ispirazioni dall'alto, dall'universo, assolutamente, sono in attesa e penso che in un periodo non brevissimo, ma neanche lontanissimo, qualcosa, un terzo volume, a corona per una triade in genere, come si dice, per ciò che riguarda il prana, la mia esperienza con il prana, il mio insegnamento con il prana e tutto ciò che ho imparato in questi anni nell'ambito del prana. Un altro volume che è uscito proprio a ottobre di quest'anno, dell'anno passato, del 2020, ottobre 2020, è Inigredo. Introduzione e istruzioni per estrarre dei vegetali e da se stessi le virtù essenziali. Quindi questo volumetto è edito dalla Eco Beta, collana AES, che è il primo volume della collana AES che ho intenzione di portare avanti, non fatto che raccogliere le dispense che per una decina d'anni almeno ho dato in dono, come si dice oggi, qualcuno dice do in dono, tutti danno dei doni salvo poi farsi pagare, le dispense sono state date veramente in dono a tutti gli allievi della spagirica per cui ho pensato di prendere questi scritti e riordinarli tutti in questo libro nigredo. Quindi parteremo la macerazione, la calcinazione, la filtrazione, la distillazione fino all'apis vegetabilis. Quindi è un piccolo volume, ma estremamente ricco, estremamente concentrato e se uno non lo trova nelle librerie nazionali mi scrive e io glielo posso inviare. Infine, fra le mie opere, la mia carriera di scrittore, questo volume del 1998 che ho scritto all'Elba, la musica delle culture ex-europee e la gioia dell'essere. È una panoramica sulle culture ex-europee, vuole essere una panoramica, come si dice, di musicologia comparata. E cosa vorrei comparare al di là delle scale, degli strumenti e degli stili? Ho voluto provare a estrarre dalle varie culture l'aspetto magico rituale del suono e compararlo per vedere come nel nostro mondo, ma anche nel mondo, in particolare il mondo arabo, il mondo indiano, il mondo dell'estremo oriente e quant'altro, e soprattutto i popoli di natura, la loro musica e il loro atteggiamento, la loro valenza sonora, fosse soprattutto una valenza di carattere magico-terapeutico. Cioè la musica e il suono, che è prima di tutto un atto di medicina naturale e poi anche un atto estetico di ascolto, come un po' avviene, come poi è avvenuto nella nostra cultura, senza togliere niente a nessuno. Quindi lo scopo di questo volume è proprio questo, di far conoscere un po' meglio quelli che sono gli aspetti del suono, dell'arte, ma anche del suono e della sua valenza e la sua virtù risannatrice nell'ambito di culture diverse. La gioia dell'essere è una piccola introduzione, una breve introduzione, che riporta sempre ai ritmi della natura, ai ritmi dell'uomo che corrispondono ai ritmi dei movimenti celesti e così via, quello che poi è stato ampliato del più in un capitolo del mio secondo libro, Tecniche avanzate. Tutto questo perché da sempre ho avuto il sentore, fin da piccolo, con ispirazioni naturali, con riflessioni di carattere naturale, senza mai aver letto nulla nel riguardo, che alla fin fine i ritmi, le armonie di ognuno risuonano con le armonie universali. Questo si dice, tutti lo dicono, però a viverlo e a sentirlo come una sostanza profonda che si muove nel nostro essere è un altro passo. Quindi occorre lavorare, occorre prendere la nostra pietagrezza, sia con il prana, sia con la macerazione dell'anigredo nella spagiria, ma anche con il suono, dove io prendo una canna, la sgrezzo, la lavoro e poi dopo averla lavorata, soffiando attraverso il soffio, ecco che emerge il suono. Ed è quello che io chiamo la bellezza dalla triplice natura. Uomo, vegetale, con la spagiria, suono con lo strumento che, umile, materiale, ma lavorato e assemblato dall'uomo, produce quella meraviglia che è il suono, con tutte le sue caratteristiche di carattere emotivo, fisico, spirituale, energetico. Ma poi, anche qui, bisogna, come si dice, starci dietro. Non basta fare la doccia una volta, occorre farla in ogni caso tutti i giorni, ma soprattutto imparare a nuotare in questo meraviglioso mare che ogni giorno si presenta con il sorgere del sole, scompare col tramonto del sole, ma poi la vita si ricicla ogni giorno con un tramonto e con un'alba che porta di nuovo un tramonto e che porta di nuovo un'altra alba. Cari amici, spero di risentirci tutti insieme e soprattutto di avere da voi dei segnali di vicinanza. Se avete bisogno di informazioni, scrivetemi, telefonatemi e ricordatemi che tutto questo, ricordiamoci, lo troviamo in AS Academy che è proprio il sito e il luogo ideale ma reale dove tutto questo avviene per la bellezza della nostra triplice natura. Buonasera a tutti e alla prossima! Grazie a tutti!